Siamo insieme a quello che possiamo definire ormai un amico di Cefermento, anzi a buon titolo, si è guadagnato le stellette sul campo per molte partecipazioni, Alberto di Beer Flute, oggi con Birrando e Gustando, presente qui a Torino, per un'iniziativa molto bella, cioè la cotta pubblica della birra, che diventerà anche una cotta collettiva. C'è molta curiosità per vedere come nasce la birra. Sì, c'è veramente tanta curiosità. L'idea che ha avuto Teomus e il suo staff è un po' quello di far vedere sul campo, in modo semplice, come nasce una birra, quindi spiegando le materie prime, spiegando gli ingredienti, spiegando i procedimenti e tutti insieme fare una piccola cotta di birra. Questo grazie all'impianto dell'associazione culturale Birrando e Gustando, di cui faccio parte, che promuove un po' la cultura birraria nel settore della produzione della birra. Il momento clou di questo piccolo evento inserito nel Ballad & Fest è un po' quando ci sarà da mettere il lupolo e chiederemo l'aiuto ai birrai presenti, ognuno di buttare una manciata di lupolo. Può simbolizzare tutto il movimento birrario italiano che è fatto di tante personalità che hanno portato a questo bellissimo, direi, evento assolutamente inedito per Torino. Sicuramente una bella festa, condivisione con 160 birrifici e molti mastri birrai che sono presenti, se non tutti. Tu sei un grande esperto di birra, ormai da tempo le conoscevi tutte queste? No, no, infatti è fisicamente impossibile in due giorni assaggiarle tutte, cioè proprio abbiamo fatto un calcolo a tavolino, no, non ci si riesce proprio. Devo dire che la qualità media della birra italiana è veramente altissima, ci sono birre strepitose, ci sono dei birrai assolutamente disponibili, può appresentarle, a promuovere il prodotto. Questi 18 anni, veramente, è stato un salto epocale, in un periodo veramente breve. Cioè, in Italia si è fatto in 18 anni quello che negli altri, all'estero, si è fatto in 20, 30, 40 anni di birra artigianale. Bene, direi molto positivo, quindi c'è da festeggiare. Allora, buon lavoro e buon festeggiamento, Alberto. Grazie, grazie soprattutto a Baladen che ha dato l'opportunità a tanti di farsi una bellissima vetrina e a proporre al pubblico torinese un evento, direi, unico. Grazie.